Sicuramente noi un po' più esperti potevamo fare o dare un po' di più come sempre. Tanto che alla fine, tra virgolette, le colpe sono quasi sempre, non diciamo nostre, ma quasi. Però diciamo che in tutti i campionati ci sono sempre i bassi e non saprei dire... Alla fine è sempre lavoro quello che conta. Noi ci alleniamo sempre per dare il massimo e per vincere e provare a vincere tutte le partite. Poi ci sono anche gli avversari e non riusciamo sempre a vincere. E quindi con il lavoro ne siamo usciti e dobbiamo continuare adesso e ci siamo tornati a vincere. Dobbiamo continuare da dove siamo arrivati. Sì, sicuramente a prescindere da Catanzaro è una partita come le altre. I punti sono tre come tutte le altre partite. Dunque sì, ci tengo a rientrare in forma il prima possibile e di far bene il prima possibile perché abbiamo bisogno tutti sia di far punti sia di fare bene. Sono una squadra forte e come tutte le altre partite, come ripeto sempre, dobbiamo cercare di, anche perché siamo in casa, di fare più punti possibili per arrivare nella migliore posizione ai play-off. Perché poi alla fine conta tanto la posizione. Non ho mai finito un campionato senza far gol e non vorrei fare quest'anno finire un campionato senza aver segnato. Quindi sicuramente devo fare di tutto possibile per aiutare la squadra e per provare a fare gol. Sicuramente ci sono squadre tanto attrezzate sopra di noi e sotto di noi. Io sinceramente, lo dico con tanta sincerità, alla fine del campionato se arriviamo sesti sono contento perché oltre che facciamo le prime due partite in casa se le passiamo abbiamo una posizione in casa favorevole per le due prime partite che sono quelle che a scontro diretto passeresti con due risultati su tre. Grazie. 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 Grazie.